La piaga, l'incubo dei nostri tempi. Nei rifugi nido puoi dimenticartene. Spazi eleganti e funzionali, dotati di tutti i comfort e con i migliori sistemi di intrattenimento. Puoi trasformare la tua quarantena in una vacanza inaspettata. Sara, mi senti bene? Sei infetta, sei in un nido. Al sicuro. Nelle prime fasi del contagio è probabile avere difficoltà respiratorie, perdite di conoscenza e sbalzi di umore. Lasciami andare! Lasciami andare! Sono qui solo per aiutarti, però tu devi fidarti di me. Quando ti prendi cura di una persona, a volte devi prendere decisioni difficili. La situazione è peggiore di quanto immaginassimo. Il controllo della città adesso è in mano agli infetti. Ripetete a voce alta. Sono ancora una persona. Sono ancora una persona. Apri questa maledetta porta! Sono ancora una persona. non c'è niente di buono per noi. La fuori sarà solo qui, nel nido.